Nelle ultime due settimane era diventato l'incubo di viaggiatori e pendolari, che prendevano bus di linea dall'autostazione Tibus in largo Guido Mazzoni. Si tratta di un 48enne romano, un ladro i cui obiettivi erano i bagagli appena depositati negli autobus pronti a partire. L'uomo, con precedenti e senza fissa dimora, era ospitato per l'emergenza freddo in un centro della Caritas, nei pressi della vicina stazione Tiburtina. L'arresto è scattato in seguito all'operazione dei carabinieri della stazione romano-mentana con l'accusa di furto aggravato. Le indagini dei militari, iniziate a seguito delle diverse segnalazioni e delle denunce delle vittime, hanno portato in poco tempo a stabilire che dietro i molti episodi di furto c'era la stessa mano. Giovedì pomeriggio, durante un mirato servizio di appostamento proprio nell'area di sosta dell'autostazione, i carabinieri hanno colto in flagranza di reato il malvivente. L'uomo, dopo aver puntato una studentessa 19enne, che dopo aver lasciato la sua valigia all'interno del vano portabagagli si era accomodata sul bus in attesa della partenza, aveva prontamente riaperto il portellone e prelevato il bagaglio per poi darsi alla fuga. È stato però inseguito e bloccato dai carabinieri che hanno recuperato l'area furtiva, restituita l'ignara vittima in tempo per la partenza. A questo punto i carabinieri hanno portato il ladro in caserma e dopo aver visionato le immagini dei precedenti furti avvenuti con le stesse modalità, sono riusciti a collegare il suo volto ad altri cinque colpi consumati negli ultimi 15 giorni, dove era riuscito a impossessarsi dei bagagli dei turisti e viaggiatori.